Riceveva la pensione di invalidità e l'accompagno per la sua cecità, un handicap solo su carta però. Grazie ad un'indagine trasversale dei carabinieri della stazione di Marino che stanno controllando tutti i soggetti a cui è stata riconosciuta l'invalidità, è stato scovato il 63enne perfettamente in grado di attraversare la strada da solo, salire sui marciapiedi, sui gradini della chiesa, fare la spesa in completa autonomia e addirittura scegliere il vino giusto per ogni occasione. L'uomo negli anni aveva di fatto accentuato un virus agli occhi facendosi credere cieco anche davanti alle commissioni mediche che lo avevano esaminato fino a diagnosticargli un distacco della retina oculare. L'uomo si era finto cieco nel 98 pianificando una strategia e curandola nei minimi dettagli. Si era infatti licenziato dall'ente poste italiane dove lavorava riuscendo così a percepire la pensione appena maturata assieme all'assegno di accompagnamento che andavano ad accreditarsi sul suo conto corrente da cui il truffatore prelevava i soldi mediante operazioni al Bancomat. Insomma una vera e propria truffa ai danni dello Stato per circa 200.000 euro, 107.000 sono infatti i soldi che negli anni l'Inps ha avversato al furbetto mentre la rimanenza dell'accompagno è stata avversata all'istituto per ciechi. L'uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Vellegri per truffa aggravata ai danni dello Stato. Dovrà restituire almeno il 50% del danno erariale. Sarà la Corte dei Conti a stabilirne con certezza la cifra.